musica 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 anche non mi piace spammarmi perché la vita è senza me non scopare tra i live musica 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 girls Mara musica 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 si lascia i colpi pura come sono messo perché c'è solo una sei colpi e un pompa del nonno io c'ho una vita e di nemiti io con patate c'è un pompa verde il pompa del nonno ce l'ho verde ma che trovata un paura allora si sta venendo gente un parete no lascio la sei colpi verde perché non so non mi piace ce n'è un'altra blu qua c'è uno shield da 50 qua sopra c'è uno c'è uno scendino io c'è un vamp pure ancora c'è uno scendino che te si pensavo a me che dopo devo andare a farmi la doccia urgentissima ah ecco perché è uscito giù quant'anni c'hai bro ah sei piccolo minchia e tu quant'è niente? 60 ah 33 è piccolo doveva scherzare anche se guarda c'è un ragazzo solo l'ho beccato che era più grosso di me sennò di solito sono un po' più piccoli ah c'è un tattico qua c'è un altro R qua sopra spesso è dove c'è la dici tattico c'ho raga se venite qui al palazzo negrosso ci stanno breakermi da piano io c'ho scar se vestiamo dai di shield si dove stai? ah ghost anche io c'è la ghost vai c'è un altro eh uno ce ne avevo io solo no te ne guardi ghost eh boh ah mitraglietta qua dietro ghost ghost senti qua ghost ah ecco grazie metto di un palloncino no no che cacchio guarda no bende c'è bende qua sopra si lo lascio pure io so fa un po' di materiali c'è io dove stanno le bende qua sopra 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 oh c'è ma come ho preso così tanta vita c'era un medico si ce l'ho io c'ho un fallo ecco ma da qui come che scendiamo ehm ho i palloncini mettetevele allora si ho aspettato dormitore si 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 ci stanno nella torre eh ma dove la riporta dove stanno? qua 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 stanno già qua Ma sotto o sopra? Sotto Secondo piano Ah c'è un baule Si stanno cercando di farci No Sopra sopra Me lo ridai Qua si scende Niente Mi ridai il baule Ma dai Dovrebbero stare qua Ah bre Sanno qua Minchia Che colpa? Minchia No scusate Sono qua Ah eccoli trovati Via bre Lasciali Agganciane uno e lascia Un attimo Siete pronti? Tenito Ok Vabbè 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 Comunque sta giocando Stai giocando Stai giocando Sì No 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 Mettete Eh perché Sbaglio Quanto è bello Vengli panni il Genzer Bussato Non ce l'hai tu? No io si Ce l'ho tutte e due C'è Sì C'è un C'è un Beh C'è un C'è un C'è un io so so pieno me scarseggiano un po i materiali però ci conviene farli un po 46 310 310 entrambe si vedo il fortino di legno si sono fatto adesso adesso chi è i palloncini? vai raga pusciamo pusciamo c'è un altro paio di palloncini se le vada no io no c'è la bressan sta davanti a me pusciamo pusciamo si rega devo chiudere qua che mi spara da sopra eh te ne devi andare allora si basse a si cazzo non si è tolto pure il coso ah che mi spara da sopra o da dietro oh che liscio io ho fatto 40 ma che io sto pusciando? shield vai che ce l'ha pure non lascia a te mannaggia me l'hai fatto lasciando non te lo sei preso vabbè ho un altro 70 in testa a te va no boh come l'hai rubato ah io ho fatto 70 io ho fatto ma io vengo proprio davanti ah c'è il soldonitubo c'è la scelta eh quanti cilidini? eh sopra eh raga io ho scala però non lo fanno più o bene ma io non ho capito dove bene da sopra eh infatti ragazzi sono due cucine da sopra se mi sono morto posso portare le bende? raga è una jump eh se volete andarvene ehm raga non vedo sicura io non riesco a capire da dove spara c'è una mezza torretta 268 secondo me è da lì si ma deve essere con la jump? scusate ma dovete vedere se sta da solo sì ma mi sembra che sta da solo perché sparano eh rift rift a 90 hanno riftato brah San magna fungi magna fungi oh raga la safe raga la safe ancora a tre sì via 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 c'è una jump raga e io i baroncini c'era un baule qua io salgo sopra salgo non so se controlla se lo facciamo easy oh raga stanno qua eh torna giù torna giù oh c'è un aereo dai prendiamo gli aereo quattro so cazzo no no ce lo facciamo ce lo facciamo madonna eh non devi andare da solo aspetta noi ti proviamo ma c'è andato luce per curiosità è forza no no arrivo arrivo è forza è forza è forza è forza eh ma ci devi venire qua eh ma ci devi venire qua ah sì il problema ma è suo fermati qua fermati qua fermati qua depression oh cazzo oh cazzo ho finito i materiali no, quando tante li metti ha farmato all'inizio vieni, fammi 2.4 bro, bro, vieni qua qua, qua, qua vessa, non ci stai? oh raga, 6 potenziali io dimmo potenziali ma siamo tutti da play? è questo da pc? no, no, è da pc, da pc lui lui è da xbox no, è da xbox ah, sì, è da xbox, è giusto ah, hai preso atto di danno fa il culo, va falò? no, per sbaglio l'ho mutato ce l'ho io, ce l'ho io eh, allora, vieni qua arrivo nooo vieni, vol sei intampato ma io so, so quasi full devo scendere per forza io so sotto, ragazzi venite sotto se potete venire ma sei full dai materiali? eh, bro oh, da me, da me cinquantuno ho scattato un attimo come faccio il gioco gioco sì ma non mi ha costruito ragazzi, sto facendo un attimo di gioco sette secondi ma nessuno non ha un valore tre secondi ok, ci sono bocca, ne mi sento ci facciamoci il palo si è morto quello che laggata che mi ha tirato vieni, bog ragazzi, no, mettilo me tanto che vi copro no, ti viene passata solida eh, mo? non passata solida ok ok che l'ho bambino di mamma l'ho bambino di sacco l'ho bambino di mamma ah, via, ti ha preso il fesco a posto ciao ciao ma, dunque qua, non c'è a me settanta si, si settanta mi sono bellissima questo è sull'aereo, sen oi, ciao, maid bc, nord-est l'hanno visto? no, no, l'hanno visto no, l'hanno visto stanno pure sulla montagna, forse sicuramente stanno no, forse stanno no, ma mi sparano davanti a me visti perché mi posso non sciacquarsi? sta alcappando sta sotto dientro, dientro, dientro ma perché non c'è a cadere tutto? no, l'uomo con l'asta oh, ragà pochissimo è pochissimo gli è rimasto pochissimo ok tanto è ragazzo sotto sto sotto sto sotto sto sotto 10 vedi qua da me no, con l'aereo mi arrivano prendi l'angelo mi sono scendendo pure la roger scusate devo solo te vai non c'è pure se no te l'avevo pure il bende o sono nove sono nove sono nove gli scintato 121 o c'è un altro c'è un altro 60 no scusa scusa colpa mia colpa mia sef raga sef si è morto raga tre contro due ragazzo non c'è un calore e bresson non fa lo ha il farò giusto no ma ma allora il salò è la festa edita dentro vabbè da curare qua c'è un baule non mi preoccupare ho già già che il culo il controllo ma davvero maga dietro i cilini ragazzi sono 9 scelini qua occhio proprio stai solo te lo stanno a capperassi due forse stanno per me sta lui l'avevo visti bene allora bello 120 una terra fermi 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 non killatelo fermi l'abbè va bene va bene no mai vuoi trollarlo e lui ma sono rimasto si va bene allora facciamo che moriamo tutti no 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 l'abbiamo vinto ammazzate ciao lorenzo pezzolla grande oh 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 oh